Quello che vedete in questa teca è un rullino pantromatico in grande formato che veniva scattato dalla Cargo Bay della missione Apollo 16 e sono dei fotogrammi lunghi circa un metro e in alta definizione fanno vedere i crateri lunari da un'altezza di circa 110 km. E' eccezionale averlo qui al centro commerciale con E perché è la prima volta che viene esposto un rullino proveniente direttamente dagli archivi della NASA. E abbiamo anche la copia originale del Corriere della Sera uscito il giorno in cui l'uomo ha messo il piede sulla Luna.